ben trovati amici di fano tv continua il nostro viaggio nella zootecnia in particolare oggi siamo ad urbino e andiamo a scoprire il mondo dell'allevamento dei bovini parliamo di allevamento biologico in che cosa consiste l'allevamento biologico dei bovini l'allevamento biologico consiste nel fatto che gli animali devono stare al pascolo tutte le fattricie almeno sei mesi io ce l'ho tutto l'anno sinceramente perché ho il pascolo collegato alla stalla ho questa fortuna perciò ce l'ho tutto l'anno però consiste soltanto in cui gli animali che fanno il finessaggio come questi rimangono chiusi dentro gli ultimi tre o quattro mesi se no altrimenti devono avere sempre il pascolo a disposizione gli spazi sono oltre il doppio di quelli che sono in un allavamento normale praticamente una struttura come questa in cui io riesco a tenere circa un centinaio di animali in un allavamento normale ne avresti dai 250 ai 300 e chiaramente con i costi che sono superiori in pratica l'azienda biologica quello che loro malalimentazione viene fatta con prodotti biologici foraggi prodotti in azienda e per quanto riguarda gli integratori per quanto riguarda le farine sfarinate che produciamo noi abbiamo di sopra la struttura scusi praticamente utilizziamo materie prime molte autoprodotte e le altre le andiamo ad acquistare sul mercato sul mercato i prodotti sono molto più alti quelle autoprodotte diciamo in azienda comunque sono prodotte in maniera biologica perciò prodotti che costano che hanno un valore aggiunto in più e utilizziamo anche dei cruscami biologici che prendiamo dalla nostra cooperativa dove forniamo cereali cose varie e questa è un pochino l'alimentazione e per quanto riguarda anche l'utilizzo di farmaci ci sono delle differenze sì in agricoltura biologica devi prevenire piuttosto che curare diciamo questo aspetto a parte che i farmaci sono costosi in agricoltura biologica i tempi di sospensione vengono raddoppiati praticamente ogni farmaco che utilizzi il tempo di sospensione viene raddoppiato possibilmente noi cerchiamo di non utilizzare antibiotici cose varie utilizziamo la fitoterapia che ci costa un po' di più però ci ha dato degli ottimi risultati ultimamente nonostante che i costi siano abbastanza superiori vantaggi e svantaggi di agricoltura e allevamento biologico? ma diciamo noi siamo entrati nel biologico da molti anni fa io mi ricordo che c'era mio padre che è stato il primo ad iniziare con la prima macchina per distribuire riservi qui in zona ma siamo stati i primi a smettere perché siamo accorti che i prodotti chimici in verità non riuscivi a combattere le erbacce e quant'altro perché utilizzavi un prodotto poi devi utilizzare un altro comunque l'infestante sul campo rimaneva il problema installa se utilizzi antibiotici a tutto rimane piano piano gli antibiotici non funzionano più allora abbiamo scelto di intraprendere un'altra strada nei campi utilizziamo la lotta meccanica oppure le rotazioni e installa e utilizziamo come dicevo prima la fitoterapia naturalmente l'allevamento biologico prevede maggiori oneri per l'allevatore ci sono maggiori oneri, c'è un maggior lavoro gli oneri maggiori sono soprattutto date dalle materie prime che costano di più si va da un aumento del 50% fino al 100% sulle materie prime a seconda dei periodi l'altro oner maggiore è creare la produzione di foraggi non utilizzando concimi chimici hai una produzione inferiore questi diciamo sono gli oneri principali e poi dopo c'è qualche ora di lavoro in più se vogliamo imparare dei prodotti prendiamo per esempio il mais che ha detto attualmente sulla borsa merci va dai 30 ai 32 euro 35 si compra, se vuoi quello biologico ci vogliono 65 euro il favino che va intorno ai 40, 42, 43 si compra quello convenzionale sul biologico superiamo i 60 di soia meglio non parlarne perché lì si superano i 100 euro contro i 50 di quell'altra a parte che la soia non lo utilizziamo noi però comunque tutti i prodotti sono molto più cari per quanto riguarda aspetti di certificazioni e burocrazia? burocrazia un po' in agricoltura ormai c'era per tutto diciamo nel biologico abbiamo dei registri in più abbiamo delle cose in più che comunque facciamo da anni la certificazione quella sì è un costo perché è un costo comunque noi spendiamo solo su questa azienda qui spendiamo sui 2500 euro l'anno di certificazione anche rispetto alle certificazioni agli aspetti burocratici ci sono maggiori oneri? sì c'è maggiori oneri la certificazione che nel convenzionale non c'è qui c'è e costa solo questa azienda spende 2500 euro in certificazione poi abbiamo gli oneri tutti i registri registrare tutto quello che noi comunque compriamo quello che facciamo trattamenti diciamo oltre a fare la registrazione normale all'ASL i trattamenti sanitari dobbiamo farli anche sul registro sul registro del biologico va tutto registrato tutto catalogato chiaramente la sera quando hai finito di lavorare devi tornare a casa e farti il tuo compitino e finisce qui un altro interessante capitolo della zootecnia all'allevamento biologico dei bovini appuntamento al prossimo speciale